Il San Tommaso continua a battere colpo su colpo in sede di calciomercato e in arrivo infatti un centrocampista dalla Virtus Avellino. Non si tratta di un calciatore qualsiasi, bensì dell'ormai ex capitano Fabio Alleruzzo. Per lui, nonostante un comunicato di pochi giorni fa nel quale la società dichiarava la sua permanenza, è pronto un accordo con il San Tommaso Calcio per il prossimo campionato di Serie D. Si tratta di un addio doloroso per la Virtus Avellino, poiché Alleruzzo viene da due stagioni vissute intensamente con il club. Ma non solo Alleruzzo, i grifoni sono pronti a mettere a segno un altro colpo per la mediana. Si tratta di Gennaro Acampora, che lo scorso anno ha militato nella prima parte di stagione all'Avellino, per poi passare alla San Remese. Oggi ci sarà un contatto tra il giocatore e il San Tommaso per definire l'accordo.